L'ultimo minuto, sei partito? Sì, a parte i numeri che chiaramente contano molto nel calcio, oggi è stata fatta una vittoria di qualità e di carattere contro una grande Dernana che bisogna fare i complimenti, che non ha mai mollato fino al 95esimo Cici Zola e Antonio Piccolo stanno cominciando a fare la differenza per quello che riguarda le qualità che hanno e che è una squadra che gli spezia in forte crescita e ripeto, rifacciamo complimenti alla Dernana perché oggi ha fatto una prestazione che sapevamo che stava bene, sapevamo che è una squadra che lotta e quindi questi tre punti diventano ancora più importanti sotto l'aspetto sia della classifica ma anche della prestazione fatta perché vincere con la Dernana di oggi non era facile